tu lo conosci l'articolo 1 della costituzione buongiorno oggi parliamo dell'iran inutile dire che è un paese milenario ha una storia immensa risale a oltre 2000 anni c'erano gli sciiti poi popoli che hanno attraversato questi territori a dando ricchezza culturale teorica religiosa storica musicale per esempio a un certo punto l'iran prende e fa una svolta negli anni famosi negli anni 70 anzi nel 79 precisamente gira pagina cerca di eliminare prima pacificamente l'assetto governativo dello shah e non ci riesce perché dietro lo shah c'è una potenza militare americana quindi anche lì viene creata una rivolta di popolo pilotata dall'ayatollah il capo di tutta la struttura religiosa a parigi tant'è vero che un giorno lo shah gli chiese al yatollah comeini quanto vuoi per smetterla e l'ayatollah comeini gli rispose qualsiasi cifra tu mi dici io te la raddoppio 50 volte questo per capire l'immensa ricchezza e la saggezza e la sagacia di questo condottiero leggo l'articolo 1 la forma di governo dell'iran è quella della repubblica islamica sostenuta dal popolo iraniano sulla base della sua antica fede nella sovranità della verità e nella giustizia coranica nel referendum avvenuto nel 9 e 10 decimo giorno del farward in nell'anno 1358 del calendario solare islamico corrispondente ai giorni 1 e 2 hamadi anawal dell'anno 1399 del calendario lunare islamico 29 e 30 marzo del 1979 attraverso il voto positivo della maggioranza del 98,2 per cento degli eventi diritto al voto questo articolo non scherza è proprio quasi uno schiaffo in faccia però è come dire mettiamo i puntini su lei noi abbiamo avuto e lo dicono a caso una votazione del 98 per cento ovviamente degli eventi diritto al voto che poi c'è da discutere sulla proporzionalità che cosa significa questo e c'è stata una visione totale che neanche nelle più forti rivoluzioni da quella russa nessuno ha avuto una visione simile che cosa succede che questa questo popolo antico questa nazione di rilevanza anche per dimensioni territoriali e per risorse naturali è un paese da disturbo crea degli disequilibri in tutto in tutto l'assetto geopolitico ma la particolarità di questo islamismo iranico è che viene gestito dagli shiti e gli shiti sono la casta sacerdotale del mondo islamico cioè l'islamismo non ammette casta sacerdotale ammette il saggio il muezzin che canta loro no hanno una struttura gerarchica come c'è nel cattolicesimo come c'è nella religione ortodossa e quindi questo crea delle frizioni anche nel mondo islamico cioè a causa di questo tipo di scelta loro si chiamano alawiti perché seguono ali e non maometto quindi immaginando che cosa c'è dietro ve lo risparmio ma qualche curioso se vuole può indagare non riesce a far conferire all'iran il ruolo di leader mondiale pur avendone l'intelligenza l'organizzazione i mezzi le risorse per a causa di questo di questa scissione religiosa che poi diventa anche ideologica nel corso degli anni il regime si consolida fa politica estera e fa anche paura perché non si sa bene che tipo di armamento da chi lo compra anche se poi le riazioni ufficiali internazionali l'iran è controllato l'iran è un bel punto interrogativo diciamo che c'è qualche timida apertura che io mi auguro perché comunque è un popolo veramente interessante e che può dare molto anche sul piano della cultura alla prossima puntata parleremo del pakistan